Siamo qui a Modena alla conferenza stampa di Matt e siamo qui in compagnia del dottor Fabrizio Starace che come ormai sappiamo è direttore, dipartimento della salute mentale, dipendenza patologica e dell'Auso ma gli amici di Radio Liberamente la conoscono a mena dito, guardi. Come sta? Beh, non male, abbiamo visto tempi migliori ma non male. Certo, allora Starace ci ha detto a una riunione su Matt di qualche tempo fa di fare interviste più brevi quest'anno quindi adesso vediamo se ci riusciamo, partiamo da lei. Allora, perché è la solita domanda che faccio tutti gli anni, perché dopo 12 anni una persona dovrebbe partecipare ancora a Matt? Perché le attività per abbattere il pregiudizio, per aumentare la nostra conoscenza dei fenomeni che ancora ci sfuggono come i grandi temi della salute mentale non si realizzano in un solo corso, non si consegue il diploma o il certificato ma vanno praticati in maniera costante, di anno in anno. Ho capito, quindi servono più edizioni all'infinito perché poi non bastano mai. Faccio in tempo solo a fare un'altra piccola domanda che ci tenevo a fare. Una cosa del Matt scorso o delle edizioni comunque passate che le è piaciute tantissimo e che spera si ripeta nel Matt di quest'anno e una cosa che invece in modo critico le dice, beh, quella si può evitare, magari lì abbiamo fatto troppo, troppo poco. La cosa che mi piace sempre ribadire è quella che ci vede tutti uniti nell'inaugurazione, nella marcia, nella passeggiata che quest'anno sarà ravvivata anche da episodi di Living Theatre itinerante. La cosa sulla quale io credo che invece dobbiamo migliorare è il coinvolgimento dei giovani, degli studenti, di coloro che stanno completando la loro formazione e per i quali questi temi io credo siano temi fondamentali da includere nel curriculum, non solo di studenti ma di persone, di cittadini. Sì, va bene, speriamo che sarà così. Si può dire grammaticalmente speriamo che sarà così? Direi che un congiuntivo utilizzerei, speriamo che sia. Va bene, va bene, bravissimo, grazie, arrivederci.